Sentire invece uno che io reputo uno dei dieci brani più belli del mondo e l'ha scritto un signore che si chiama Arodale Il nome non dice molto, ma se mi dico il film che ha scritto le musiche, sì, che è il mago di Oso quindi il brano si chiama Over Grego e me la dedico con tutto il cuore Grazie ancora per me Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.